La società economica di Chiavari è espressione della parte migliore della nostra tradizione, quella di una Liguria che attenta al proprio passato anche nelle manifestazioni più umili, lo indaga criticamente, ma senza nostalgia, guardando al futuro, al lavoro che occorre per costruirlo, il lavoro di scienziati e letterati come di artigiani e agricoltori, coloro che hanno costruito il nostro territorio, questi straordinari paesaggi che sono il centro dei miei interessi. Lavoro e cultura, mi sembra questo il binomio che meglio descrive ciò che la società economica è. Lavoro che produce cultura, non solo ricchezza, ma bellezza, socialità e che ha bisogno di cultura, di costante innovazione, di guardare alle nuove generazioni. Questo è lo scopo in fondo per cui la società economica è nata più di due secoli fa. La società economica è piena di anziani come me, ma le sue stanze, il suo giardino sono anche pieni di giovani. Questo è orgoglio della società e del suo presidente. Ecco perché la società economica ha 230 anni ma non gli dimostra. Auguri società economica per i prossimi e quanto a noi cercheremo di passare al meglio il testimone.